Sabatini, tornate a chiedere chiarezza sulla vicenda delle famose divise dei vigili urbani, una vicenda che dura da due anni. A questo punto cosa chiedete? Vogliamo che questo caso venga analizzato in Commissione Controllo e Garanzia, quindi vogliamo ascoltare tutti i soggetti che sono coinvolti in questa vicenda, quindi dal comandante della Polizia Municipale Maggitti, al capo servizio comando, all'economato del Comune di Pescara e anche all'ufficio legale che si sta occupando di questa vicenda. Sabatini, vogliamo un attimo brevemente raccontare i fatti, cosa è accaduto due anni fa con queste divise? Sì, due anni fa, il 19 ottobre 2012, è stato firmato un documento di trasporto che attesta l'arrivo di più di mille capi destinati appunto alla Polizia Municipale. Un anno dopo invece la Polizia Municipale comunica che questa fornitura è incompleta. Esistono quindi due atti contrastanti e incongruenti sui quali noi vogliamo fare chiarezza, perché ad oggi il risultato è che i vigili urbani non hanno questi capi che sono ancora incelofanati negli scatoloni e la ditta appaltatrice invece dice vogliamo l'importo perché avete firmato il documento di trasporto. E tra l'altro voi siete determinati e decisi ad andare fino in fondo? Sì, vogliamo andare fino in fondo, abbiamo già fatto un'interrogazione comunale alla quale l'assessora del Chi sul Pizio ci ha risposto, ma è una risposta che non ci soddisfa e vogliamo sapere ad oggi qual è lo stato dei fatti, quindi anche attraverso l'ufficio legale qual è la situazione, perché c'è il rischio che il Comune di Pescara debba comunque sia colpito da un danno erariale, perché comunque è che ci sia oltre al danno anche la beffa. Cioè avere negli scatoloni queste divise dei vigili urbani che quindi non possono essere usufruite e in più il Comune debba sia costretto a impegnare ulteriori cifre per acquistare altre divise.